Vediamo che i luoghi della cultura continuano ad essere importanti nelle varie attività del comune per coinvolgere la città. Quindi in occasione della European Mobility Week, che è partita il 16 di settembre e terminerà il 23, il 23 di settembre l'Ufficio Cultura, l'Assessorato della Cultura, organizza una bella pedalata attraverso i luoghi della cultura, cui è possibile prenotare andando sul sito del museo. Ma non solo, il 23 e il 24 sono le GEP. Cosa significa? Giornate europee del patrimonio e per valorizzare il patrimonio abbiamo deciso di creare un'iniziativa chiamata giornate preziose. Cosa accadrà in queste giornate preziose? Noi abbiamo un tesoro a Fano, che è il gioiello. E quindi per valorizzare questo tesoro dal punto di vista anche artigianale e valorizzare anche quelli che sono i luoghi della cultura, il patrimonio culturale che abbiamo, abbiamo deciso di allestire dentro la sala Morganti, all'interno della quale mi trovo in questo momento, una serie di attività. La prima sarà sabato 23, assieme all'Accademia Orafa. Lorenzo Fiorucci ci parlerà della storia del gioiello in Italia, un appuntamento molto interessante a cui vi invito caldamente a partecipare. Dopodiché il 24 ci sarà un incontro, un laboratorio con i ragazzi della Polloni che fanno il corso di metalli preziosi e ci racconteranno quello che è il loro allestimento e le loro creazioni. Qui ne vediamo alcuni esempi e sono delle realizzazioni bellissime e meravigliose. E subito dopo ci sarà il laboratorio per bambini splendido splendente, proprio per far iniziare anche i bambini fin da piccoli a conoscere quello che è questa parte importante della nostra cultura. Quindi 23 e 24 vi aspettiamo al Museo del Palazzo Malattestiano, che cerca di essere sempre più attivo e vivo proprio per la città. Grazie.